salve a tutti in questo video vorrei parlare della possibilità che putin utilizzi le armi nucleari contro l'ucraina la ragione di questo video è che alcuni giorni fa putin ha appunto detto che se la nato inviasse truppe in ucraina ci sarebbe la guerra nucleare e come sempre leggero un articolo che ho dedicato a questo argomento un articolo pubblicato per sicurezza internazionale punto com che il sito di cui sono direttore sicurezza internazionale punto com è anche il primo sito in italia per numero di articoli pubblicati sulla politica internazionale ne pubblichiamo oltre 400 al mese colgo subito l'occasione per ringraziare gli abbonati di sicurezza internazionale punto com per avere partecipato all'ultima diretta come sempre tutto è stato molto bello e molto stimolante e faremo un'altra diretta solita diretta mensile verso la fine di marzo e vengo ai fatti in primo luogo voi sapete che io sono molto interessato a introdurre la logica nel dibattito pubblico perché penso che questo sia il modo migliore di innalzare la qualità del dibattito pubblico sulla politica internazionale in particolare la logica dell'indagine scientifico sociale quindi utilizzando la logica e prima di leggere l'articolo prima di entrare nel vivo della mia tesi delle mie argomentazioni sulla possibilità di una guerra nucleare tra la nato e la russia vorrei riflettere sui titoli dei giornali sul modo in cui i nostri media televisioni radio quotidiani hanno rappresentato i fatti cioè il titolo è stato putin minaccia l'occidente con le armi nucleari e tutti i dibattiti in televisione sono stati su questo i commentatori gli analisti quasi tutti conduttori televisivi insomma è inaccettabile che putin vada avanti con queste minacce continuamente le minacce di usare le armi nucleari contro l'ucraina eccetera eccetera proviamo a utilizzare la logica proviamo a ricostruire i fatti per rispondere alla domanda ma i media dominanti in italia rappresentano correttamente i fatti cioè le concatenazioni causali i rapporti di causa effetto sono ricostruiti correttamente perché a me risulta questo macron una mattina ha rilasciato questa dichiarazione ha detto putin io penso che i soldati della nato e lavoro a questo risultato entrino in ucraina per sparare in bocca ai soldati russi cioè macron si è rivolto a putin e gli ha detto putin e ci sono gli eserciti della nato io macron in qualità di presidente della francia ritengo che i soldati della nato debbano entrare in ucraina infilare la canna del fucile in bocca ai soldati russi e premere il grilletto putin ha risposto dicendo caro macron caro macron se voi doveste fare una cosa del genere siccome io sono consapevole che la nato è superiore alla russia dal punto di vista degli eserciti convenzionali e io vi sconfiggo subito con le armi nucleari e non è una novità perché il 7 febbraio del 2022 si svolse una conferenza stampa al cremelino macron al fianco di putin e putin disse guardate che io so benissimo che gli eserciti della nato tutti insieme sono più potenti di quello della russia eserciti convenzionali armi convenzionali però disse putin e con le testate nucleari e siccome la francia 290 testate nucleari e siccome la russia 6.000 testate nucleari sotto il profilo logico a quali conclusioni noi possiamo pervenire macron è nella condizione di minacciare putin 290 testate nucleari il regno unito dovrebbe avere circa 225 testate nucleari quindi dal punto di vista delle testate nucleari così detto scherzosamente questa è una chiacchierata tra amici dal punto di vista delle testate nucleari l'europa è un gruppo di pezzenti cioè gli europei sono i pezzenti delle armi nucleari perché se tutto quello che c'è in europa in termini di dotazione disponibile ai governi europei sono 290 testate nucleari la francia 225 testate nucleari il regno unito la russia 6.000 testate nucleari secondo me se macron ha 290 testate nucleari non è nella condizione di poter minacciare putin però accade però accade ora una delle tesi che io svolgerò nel mio articolo è che ciò accade perché la classe dirigente europea è corrotta nel senso inteso da vilfredo pareto cioè ha smarrito la sua funzione di guida la sua capacità di guida e una delle caratteristiche delle classi dirigenti corrotte è lo smarrimento del senso della realtà perché soltanto un uomo capo di stato privo di senso della realtà poteva pensare mi riferisco a macron e non soltanto a lui che l'esercito ucraino avrebbe potuto sconfiggere l'esercito russo e che l'eserciti gli eserciti della nato possano sconfiggere la russia gli eserciti della nato e non possono sconfiggere la russia perché a causa dello sviluppo delle testate nucleari la guerra è cambiata semplicemente è impossibile sconfiggere la russia la russia non può essere sconfitta in nessun caso e sotto nessuna circostanza perché a 6.000 testate nucleari quindi la russia e io non so come spiegarlo l'ho detto mille volte la russia è semplicemente imbattibile e io non riesco a capire come si possa essere così corrotti in senso nel senso inteso da vilfredo pareto per smarrire completamente il senso della realtà pareto insegnava anche che le teorie vere sperimentalmente vere le teorie scientifiche vere vengono scalzate sempre dalle teorie false ma utili che quello che accade in europa la teoria secondo cui l'esercito ucraino avrebbe sconfitto quello russo era una teoria scientificamente falsa sperimentalmente falsa però utile quindi ha preso il sopravvento sulla mia teoria che era sperimentalmente vera scientificamente vera diciamo così secondo cui la russia era sovrastante rispetto all'ucraina avrebbe distrutto l'ucraina e l'ucraina avrebbe perso la guerra che è esattamente quello che è accaduto perché come tutti sappiamo l'ucraina ha perso la guerra rovinosamente e definitivamente perché tutto quello che aveva in termini di soldati di soldi di armi lo ha riversato nella controoffensiva iniziata il 5 giugno 2023 che è stata un fallimento colossale dove l'ucraina non ha conquistato nulla ha semplicemente decimato il proprio esercito e adesso l'ucraina versa in una condizione disperata senza soldi senza munizioni senza armi senza difesa aerea e soprattutto senza soldati perché le ultime mobilitazioni ucraine sono state un fallimento spaventoso adesso vado a leggere l'articolo l'articolo si intitola Putin userà le armi nucleari in ucraina nella sua intervista il paese giana credo si pronunci così vice segretario generale della nato e lui è della romania ha affermato che la minaccia di Putin di usare le armi nucleari nel caso in cui la nato invì le proprie truppe in ucraina deve essere considerata un'intimidazione psicologica piuttosto che un'intenzione reale mi attenzione il vice segretario generale della nato dice no 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 non è vero quando Putin dice che se ne inviamo le truppe della nato in ucraina a combattere poi dopo li usa le testate nucleari dice il vice di stoltenberg no non è vero non è vero è un'intimidazione psicologica non lo farebbe giana è un tipico esempio di ciò che intendo per classe dirigente corrotta nel senso inteso da vilfredo pareto secondo pareto una classe dirigente è corrotta quando smarrisce la propria funzione di guida spesso ma non sempre la corruzione causa forme piuttosto inquietanti di distacco dalla realtà che impediscono di mettere a fuoco i problemi e quindi di allontanare le minacce la corruzione delle classi dirigenti è spesso causata dagli agi e dai piaceri a cui i potenti con il passare del tempo si abituano e in cui si rammulliscono ma anche dalla mancanza di circolazione dell'elite per cui gli individui migliori della società restano bloccati alla base della piramide sociale senza possibilità di assumere posizioni di comando questo dice la teoria della decadenza e circolazione dell'elite di vilfredo pareto che la società può essere concepita come una piramide al vertice della piramide ci sono appunto coloro che occupano le posizioni apicali che controllano le risorse scarse ne beneficiano ne godono e guidano la società pareto diceva che una società funziona diciamo così resta in equilibrio per usare l'espressione di pareto il sistema sociale resta in equilibrio quando c'è una circolazione dell'elite ad esempio persone povere persone disagiate che sono molto talentuose molto intelligenti molto forti riescono ad arrivare al vertice della società e quindi c'è un ricambio la classe dirigente inevitabilmente si abitua agli agi ai piaceri si corrompe e i suoi elementi più corrotti vengono sostituiti dagli elementi più vigorosi più virtuosi che si trovano alla base della piramide sociale pareto pensava che la storia fosse un cimitero di aristocrazie che tutte le aristocrazie l'elite politiche le classi governanti fossero destinate comunque a morire non c'era secondo pareto una altra possibilità cioè lui pensava che inevitabilmente inesorabilmente tutte le classi governanti sarebbero state poi sostituite da altre classi governanti però pareto pensava che questo processo di decadenza e di corruzione poteva essere arrestato dalla circolazione dell'elite ecco perché si chiama teoria della decadenza e circolazione dell'elite perché se c'è circolazione dell'elite la decadenza delle elite delle classi governanti rallenta diventa più lenta quindi poi dopo le classi governanti possono durare più anni addirittura secoli se c'è questo ricambio se invece questo ricambio non c'è adesso noi vedremo nel continuare a leggere l'articolo mostrerò che non c'è questo ricambio non c'è la circolazione dell'elite nella classe dirigente europea adesso vi mostrerò perché come se invece questo ricambio non esiste dice il freddo pareto la società è destinata a precipitare sempre più in basso e alla fine tutto l'edificio statale crolla no che un po la situazione in cui per certi aspetti ne veniamo a trovarci cioè siamo governati da una classe europea che combina soltanto disastri che non è riuscita in alcun modo a prendere in mano la situazione in ucraina e noi vediamo che la germania è andata in recessione che abbiamo tanti problemi siamo esposti a tanti pericoli incluso il pericolo di una guerra nucleare vado avanti con la lettura dell'articolo giana è un tipico esempio di ciò che intendo per classe dirigente corrotta nel senso inteso da vilfredo pareto secondo pareto una classe dirigente corrotta quando smarrisce la propria funzione di guida spesso ma non sempre la corruzione causa forme piuttosto inquietanti di distacco dalla realtà che impediscono di mettere a fuoco i problemi e quindi di allontanare le minacce la corruzione delle classi dirigenti è spesso causata dagli agi e dai piaceri a cui potenti con il passare del tempo si abituano e in cui si rammolliscono ma anche dalla mancanza di circolazione dell'elite per cui gli individui migliori della società restano bloccati alla base della piramide sociale senza possibilità di assumere posizioni di comando credere che putin stia bleffando quando dice o lascia intendere che userebbe le armi nucleari come reazione all'invio delle truppe nato in ucraina è sconcertante chiunque creda che putin stia mentendo è vittima di un'intelligenza infiacchita se l'ucraina si trova in questo inferno ricordo a tutti che le politiche della nato basate sullo scontro frontale con la russia hanno causato la distruzione dell'ucraina che ha perso la guerra rovinosamente è perché la russia è stata sottovalutata per ben tre volte dalla classe dirigente europea quindi lo ripeto se l'ucraina si trova in questo inferno è perché la russia è stata sottovalutata per ben tre volte dalla classe dirigente europea la prima volta la classe dirigente europea ha sottovalutato la russia tra il 2014 e il 2022 quando la nato è penetrata in ucraina trasformandola in un suo membro di fatto la nato pensava che la russia avrebbe subito passivamente il trasferimento delle armi americane alle porte di mosca grave sottovalutazione pagata dagli ucraini la seconda volta la classe dirigente europea ha sottovalutato la russia nel dicembre 2021 quando putin scrisse una lettera alla nato chiedendole una trattativa immediata per scongiurare il peggio la classe dirigente europea pensò che putin bleffasse l'idea dominante era che la russia non avrebbe invaso l'ucraina perché troppo debole la classe dirigente europea ha sottovalutato la russia per la terza volta a guerra ormai scoppiata la classe dirigente europea era convinta che l'esercito ucraino avrebbe sconfitto quello russo piuttosto agevolmente non soltanto l'ucraina ha perso la guerra nonostante tutti i miliardi e le armi della nato ma come se non bastasse l'industria militare della nato ha scoperto di non tenere il passo dell'industria militare della russia infatti la nato non ha più armi e munizioni da dare agli ucraini che stanno soccombendo lungo tutto il fronte adesso arriva la quarta sottovalutazione la più pericolosa perché relativa all'uso delle armi nucleari da parte di putin nel caso in cui la nato facesse la mossa sbagliata ne ho parlato nell'ultima puntata di prima di domani a rete 4 da bianca berlinguer giovedì 29 febbraio non avendo mai sottovalutato la russia le mie previsioni si sono dimostrate vere in primo luogo conoscendo la forza della russia disse in senato il 4 dicembre 2018 davanti alla commissione affari esteri che la situazione per l'ucraina era gravissima e molto sottovalutata nella mia prima previsione il 14 febbraio 2022 a radio 3 nella trasmissione tutta la città ne parla condotta da rosa polacco se ricordo bene rai radio 3 dieci giorni prima dell'invasione dissi che putin avrebbe invaso l'ucraina mentre il generale vincenzo camporini responsabili alla sicurezza del partito di calenda azione in quella stessa trasmissione disse che putin non avrebbe invaso l'ucraina nella mia seconda previsione nel primo giorno di guerra dissi che la russia combatteva una guerra esistenziale che avrebbe distrutto l'ucraina e che per ogni proiettile della nato che l'ucraina lancerà contro la russia la russia lancerà 10 proiettili contro l'ucraina così è stato nella mia terza previsione pronunciata nel primo giorno di guerra sky news 24 nella trasmissione condotta da valentina bendicenti dissi che le sanzioni avrebbero danneggiato molto più l'economia dell'unione europea che quella della russia così è stato la guerra ha mandato la germania in recessione mentre il pil della russia cresce e sorregge lo sforzo bellico la mia quarta previsione che spero non venga mai sottoposta a verifica empirica e che putin userà le armi nucleari contro l'ucraina se la nato porrà la russia in una condizione disperata cioè nella condizione di perdere la guerra le classi dirigenti corrotte sottovalutano i pericoli perché si sopravvalutano perché la loro intelligenza si è infiacchita e perché non c'è vero ricambio ai vertici delle istituzioni per cui i capi dell'unione europea non fanno altro che scambiarsi i posti di potere ecco perché draghi dopo essere stato presidente della banca centrale europea è diventato presidente del consiglio italiano e poi è stato proposto da macron alla presidenza della commissione europea mentre ursula von der leyen è candidata a prendere il posto di stoltenberg alla guida della nato sempre loro sempre gli stessi falliscono in tutto ma continuano a rimanere al comando pareto la chiama decadenza dell'elite per mancanza di circolazione degli elementi migliori presenti nella società cioè mancanza di ricambio reale nelle stanze del potere e vi ringrazio molto ringrazio tutti coloro che seguono questo canale ricordo che i miei video non hanno una pubblicità non hanno pubblicità per una mia scelta mi è stato offerto di inserirle ma io ho rifiutato rifiutato di monetizzare e perché ho aperto questo canale soltanto per ringraziare coloro che mi seguono per ringraziare dell'affetto della vicinanza della solidarietà che che dicevo sempre sono molto molto grato di questo affetto sono anche contento di vedere che gli iscritti a questo canale credo che siano ormai se ricordo bene 100 123 mila credo è tutto questo in poco più di un anno in 14 mesi circa perciò sono molto grato di ciò e a presto